Ciao a tutti nella comunità di Agora, mio nome è Luigi e sono da Milano, Italia. Questa è la foto del contesto Beauty 2019. Stavo in Namibia, questa è una delle scelte più importanti in Namibia e ci sono questi due piccoli persone che camminano su questa scelta. Questa è una scelta molto buona e ho deciso di prendere questa foto. Ho spero che puoi piacere questa foto, piacerela e votarla. E spero di vincere questo contesto. Grazie! Grazie!